I miei colleghi. C'è chi nasce basso o bello io nacqui triste. I miei colleghi trovavano sempre battute da spargere agli uscieri e porgere alle colleghe senza sforzo. Così la mia tristezza cominciò a luccicare insieme al tagliacarte. Di Pasqua e di Natale, nei giorni di festa più profonda, la mia tristezza voleva servire a qualche cosa ed io con lei. Ci avventammo sulle pratiche, le lettere e i carteggi, fino a quando quella prosa mi sembrò poesia, fino a quando il sonno ci riempiva. Intinsi la mia vita nel lavoro, tanto che nella pianura degli archivi avrei fatto la mia villeggiatura. Ogni anno, per allontanarmi dall'ufficio, mi mandavano in missione in una nazione sconosciuta, ma quando ritornavo in sede rivedevo sulle lenti lo stupore di chi per la prima volta scopre il mare. Per questo la direzione generale mi spettava. L'avevo preferita una famiglia. Giuro che era mia, era figlia della mia tristezza e mia. Mi calunniarono, trescarono e tradirono per non farmi nominare direttore, ma alla fine vinsi, perché un'idea, quando è lunga e incredibile, è più forte. Commento. Quando un'idea è lunga e incredibile, è una fede. E la fede, qualunque essa sia, energizza una forma pensiero che tende a materializzarsi nel piano fisico.